Il treno regionale 21.08 proveniente da Parasalina e diretto al più vicino aeroporto delle ore 16.52 è in arrivo al binario 5. Ferma in tutte le stazioni. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 7.08 proveniente da Parasalina e la linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 1. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 1. Allontanarsi dalla linea gialla. 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 Allontanarsi dalla linea gialla.